Il 2-3 ottobre vi aspettiamo tutti alle finali per la promozione in Serie A di Flag Football. Flag Football dove vedono le migliori otto squadre in Italia a partecipare a questi due giorni di flag. Pesaro c'è, gli Angels Pesaro ci sono e perché no? Proveranno sicuramente a vincere anche questa competizione. Quando la federazione ci ha chiesto di riuscire a organizzare delle finali di questo genere neanche in una settimana è stata mia voglia di dire subito sì, chiamare il comune, ringraziare Mila Dell'Adora, l'assessore dello sport che mi ha subito aperto le porte con i suoi collaboratori e grazie anche all'esperienza del 2013 con Esatur che mi ha fatto vedere come si organizza un campionato europeo da 700-800 persone, forse anche 1000 detta della federazione uno dei più bei campionati europei, ho detto subito alla federazione che io ero presente. Noi siamo contenti di esserci anche quest'anno, ormai sono tre anni che riusciamo ad arrivare alle fasi finali siamo pronti, il livello è molto alto, devo dire che rispetto agli anni scorsi sono entrate nuove squadre molto competitive, il movimento del flag food in Italia si sta migliorando e tanti nuovi giocatori, tante nuove franchigie, tante nuove squadre, quindi il livello è molto più competitivo. Dal sabato e la domenica i ragazzi delle otto squadre nazionali saranno presenti sempre al campo scuola dalle 9.30 alle 18.00. In bocca al lupo agli Angels, in bocca al lupo a noi che diamo la possibilità anche con dello streaming, grazie anche a Rossini TV, di dare la visibilità di questa disciplina, una disciplina che sta sempre di più venendo fuori, sia a livello europeo che mondiale. A dicembre ci saranno i campionati del mondo, che si daranno sempre in Israele e a Gerusalemme per l'esattezza stiamo intraprendendo il percorso di avvicinamento a questa data, la competizione sarà dal 4 all'8 di dicembre ci arriviamo da vice campioni europei, quindi insomma un risultato che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione nella speranza di poter far bene, stiamo lavorando per questo, siamo convinti di poterlo fare e ormai manca poco, stiamo finalizzando il lavoro in preparazione. Sognare è doveroso, voglia di far crescere il flag football lo stiamo facendo, vi aspettiamo al campo al campo di Muraglia, giochiamo lì nei nostri allenamenti il martedì e il venerdì, poi social ci trovate e quindi non aspettate altro che venite a vedere le partite per capire cos'è il flag e poi ci divertiamo insieme.